Con 1.486 casi nelle ultime 24 ore, la Sicilia oggi è la seconda regione in Italia per numero di positivi. Fa peggio solo la Lombardia con 1.876 casi. 37 i morti che portano a 3.101 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Sono questi i principali dati che emergono dal bollettino di oggi, mercoledì 20 gennaio, del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica da coronavirus in Sicilia. Ma oggi è più che confortante nell'isola il numero dei guariti, sono 2.269. Rispetto a ieri il tasso di positività è in lieve calo, il 7,4% contro il 7,8% di ieri, ma è sempre molto alto rispetto alla media nazionale che oggi è del 4,9%. Oltre 20.000 i tamponi processati, un po' meno rispetto a ieri, erano stati 21.167. 1.459 le persone ricoverate in regime ordinario, 3 in più rispetto a ieri, 215 e cioè 4 in più quelle in terapia intensiva, 45.033 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 46.707 attuali positivi sull'isola. Intanto, a proposito dei vaccini e dei ritardi della Pfizer, è intervenuto nel pomeriggio l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il quale ha assicurato che non sono a rischio i richiami dei vaccini in Sicilia. Non c'è dubbio però, ha precisato l'esponente del governo musumeci, che i ritardi e gli impegni non mantenuti da Pfizer meritino una reazione e a tal proposito la Sicilia si è detta pronta a sostenere l'azione legale che ha deciso di intraprendere il governo nazionale.